Ci stiamo mettendo l'anima giorni e notti per avere una manovra economica che non faccia miracoli, ma che dia risposte a chi davvero ha bisogno. Non alle multinazionali, alla finanza, alle grandi banche, a coloro che prendono gli applausi dai Soros di turno, ma ai troppi italiani in difficoltà che non chiedono le mosi ma chiedono lavoro. E quindi io voglio arrivare fino in fondo, arriveremo fino in fondo anche se ci sarà da lavorare la notte di Antale o la notte di Capodanno per portare a casa una manovra economica che sia la prima di cinque manovre economiche che dopo tanti anni rimettono dei soldi nelle tasche dei cittadini italiani invece di portarli via. Noi stiamo usando il massimo del buonsenso, della responsabilità, della ragionevolezza, del dialogo. Poi i giornalisti non è qualcosa che ti chiedono, ma allora cos'è 2,4, 2,3, 2,37. Ho detto ma a me interessa la sostanza. Se poi la sostanza è 2, 3, 4, 33, quello arriva alla fine. Non parto io col numeretto in testa e in nome di quel numeretto faccio le crociate. Devo vedere di che cosa ho bisogno per cominciare a dare le risposte che gli italiani mi chiedono perché hanno voglia di lavorare, di costruire, di fare dei figli e poi il numeretto arriva alla fine. Noi viviamo in una realtà virtuale in cui prima c'è il numeretto e poi dopo il numeretto c'è la sostanza. Noi a quel numeretto benedetto siamo arrivati perché ha sotto la polpa, la carne viva, i soldi per manutenere gli ospedali, le scuole, per mettere in sicurezza le nostre montagne e i nostri fiumi che sono da troppi anni abbandonati e dimenticati per colpa di quei numeretti perché se no i mercati reagiscono. Io preferisco evitare che le montagne cadano in testa ai nostri figli e poi dopo i mercati reagiranno. Ma prima penso ai miei figli e poi penso ai mercati. Vedo di fare d'accordo i miei figli e i mercati. Però ecco, tutta la ragionelezza e il buonsenso che stiamo esercitando noi avrà la sua cartina di tornasole nelle prossime ore. E nelle prossime ore scopriremo se a Bruxelles hanno voglia di ricostruire e portano rispetto o seppure a Bruxelles prevale il pregiudizio e l'ostilità a quello che è un governo imprevisto, come quando si giocava al Monopoli. Probabilità imprevisti. Tutti gli altri governi sono figli delle probabilità. Noi siamo un imprevisto.